Domani 15 giugno la peregrinazio della Lambada Marciana e del Vangelo di San Marco Evangelista che vedrà a Teggiano, nel Vallo di Diano, nel nome di San Marco, l'arrivo di numerose delegazioni dei 25 comuni aderenti alla rete delle città marciane provenienti da tutta Italia, il parroco di San Marco Don Angelo Pellegrino. È un legame molto forte, molto affetto all'esperienza che le persone hanno fatto di intercessione di San Marco nella vita stessa delle persone, quindi diventa veramente un bel momento, adesso che la comunità di San Marco verrà inserita nella rete delle città marciane, offrirà secondo me tante buone possibilità. La comunità è già in fermento per la preparazione di questo momento, che offrirà sicuramente crescita, la possibilità di conoscere altre realtà, di conoscere altre persone legate comunque al culto San Marco, offrirà sicuramente tante buone e belle possibilità. Ci auguriamo che sia per tutti un bel momento, certamente di cultura, certamente di storia, di arte, ma soprattutto un momento di spiritualità legato al culto di San Marco. Dalla Sardegna sarà il sindaco Osvaldo Cangiu ad accompagnare a Teggiano la Lampada Marciana e il Vangelo di San Marco dalla città di Ollastra in provincia di Oristano, che è stata la precedente tappa della Peregrinazio. L'evento sarà l'occasione per presentare alla comunità tegianese la rete e vedrà anche la consegna della bandiera associativa, prioritario l'aspetto spirituale dell'iniziativa, ma non secondario anche quello della valorizzazione dei territori, delle bellezze storico-artistiche e delle produzioni enogastronomiche dei comuni aderenti, per favorirne lo sviluppo turistico, religioso e culturale. Il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia. C'è tanto da fare sulla rete religiosa, turistica religiosa, c'è tanto da fare e quindi ci avviamo verso questa direttiva perché ritengo che il turismo religioso può dare tante risorse in aggiunta ai nostri territori. Noi conserviamo patrimoni architettonici e culturali che hanno una certa importanza e che mi sono reso conto negli anni che i cittadini non conoscono i nostri tesori e quindi forse solo attraverso questi momenti, queste rete, riusciamo a dare il giusto risalto a quel patrimonio che noi teniamo conservato.